Un momento innanzitutto meraviglioso da un punto di vista dell'occupazione che grazie all'enorme produzione tutti i reparti, le truppe, i tecnici, gli addetti sono in piena occupazione quindi questo è importante per un'industria e poi devo dire l'altro aspetto molto interessante che stiamo cominciando ad esportare prodotto italiano all'estero grazie alle piattaforme far conoscere i nostri film, i nostri attori, i nostri registi c'è grande interesse, a Berlino sono state premiate le serie italiane quindi insomma mi sembra un buon momento, dobbiamo però sfruttarlo È un progetto molto interessante secondo me perché racconta una regione, la Sicilia in maniera diversa da come è stata molto spesso raccontata cioè è un racconto bello di riscatto di una famiglia forte che contro tutti e tutti riesce in qualche modo ad affermarsi anche insomma in qualche modo anche molto attuale perché in fondo i Florio al tempo non furono accettati subito erano in qualche modo degli immigrati in Sicilia anche se venivano dalla Calabria è così all'inizio sono stati vissuti osteggiati però la loro voglia e forza di fare li hanno portati al successo in qualche modo quindi una storia familiare molto bella